Cari amici, benvenuti! Oggi si parla di tastiere. Questa è la guida all'acquisto delle migliori tastiere da gaming. Come al solito, quello che vi mostrerò non è una classifica, ma è una selezione delle tastiere più consigliate sul web, perché scandaglio, analizzo praticamente tutte le guide all'acquisto, la maggior parte delle guide all'acquisto dei siti più importanti, oggi disponibili sul web. Qui sotto in descrizione, nel caso, trovate la procedura precisa con cui identifico questi prodotti, quindi se state cercando una nuova tastiera, io vi consiglio di scegliere tra appunto queste che vi racconterò, assieme ad altre che invece sono dei miei suggerimenti personali, di cui trovate tutti i link qui sotto in descrizione. E quindi si parte con una tastiera che è probabilmente la più apprezzata da un sacco di tempo, che è la Corsair K70. Il motivo per cui questa tastiera è molto apprezzata è il suo rapporto tra le caratteristiche, le prestazioni e il prezzo. Si tratta di una tastiera completa, quindi anche con il tasterino numerico, ha anche una USB, quindi potete collegarci direttamente al mouse o a altre periferiche, ed è disponibile in differenti gusti, se vogliamo, quindi con differenti tasti CRMX, differenti colori che possono avere quindi un comportamento differente in base ai gusti personali. C'è una retroilluminazione RGB totale, personalizzabile per il singolo tasto, non mancano dei controlli multimediali e c'è anche la possibilità di passare velocemente a una modalità gaming, che disabilita chiaramente alcuni pulsanti sulla tastiera così da evitare di prenderli dentro inadvertitamente e tornare a Windows, ad esempio. La struttura è super solida in alluminio e la qualità costruttiva comunque è di alto livello. Se volete, come dire, una tastiera che sia una scelta sicura per avere ottime prestazioni, chiaramente tastiera meccanica, avere ottime prestazioni nel gioco, questa di Corsair, come detto, è una scelta molto apprezzata e andate sul sicuro. La Apex 5 di SteelSeries è invece la tastiera che dovreste scegliere se state cercando un prodotto economico. Gli Switch sono ibridi, quindi non sono meccanici, ma hanno il feeling come quello dei tasti meccanici e chiaramente quando parlo di economico non intendo dire a pochi euro, ma economico in base al prezzo di tutte le altre tastiere da gaming di fascia medio alta. Risparmiando sull'utilizzo dei tasti, SteelSeries è stata in grado comunque di offrire delle ottime prestazioni perché abbiamo sempre una struttura in alluminio, abbiamo un poggia-polsi magnetico e abbiamo una retroilluminazione RGB full personalizzabile sul singolo tasto. La Razer Ornata è un'alternativa della SteelSeries che vi ho appena raccontato, quindi va a cadere all'interno delle tastiere economiche, sempre considerando la media delle tastiere più famose del mercato. Non mancano dei tasti per i controlli multimediali, illuminazione full RGB personalizzabile sul tasto anche in questo caso, un supporto magnetico e chiaramente i tasti è la parte in cui si è risparmiato di più per raggiungere le altre funzioni e anche in questo caso si tratta di tasti ibridi, comunque tasti a membrana che però hanno il feedback aptico simile a quello dei tasti meccanici. Se state quindi cercando un buon prodotto però a un prezzo economico, dovreste considerare anche questa tastiera. Quindi come dire, avete due alternative se non volete spendere troppo, quindi questa Ornata o la Apex 5. La G915 di Logitech si posiziona da tutta altra parte, infatti stiamo parlando di una tastiera costosa, ma è probabilmente la tastiera wireless migliore sul mercato. È stata pensata per essere sottile, quindi il meno ingombrante possibile in tutte le sue forme, quindi dalla struttura stessa della base ai tasti, quindi è una tastiera sottile se consideriamo appunto la media di tutti gli altri modelli. Utilizza degli switch meccanici di Logitech, Logitech GX, che offrono un bel click, quindi un bel feedback quando si schiacciano, e comunque anche una buona corsa, soprattutto se consideriamo che come detto è un modello sottile. Ovviamente utilizza tecnologie di comunicazione wireless ad altissima velocità, che non fanno differenza rispetto alle tastiere con il cavo, retroilluminazione RGB full, e un'autonomia che senza retroilluminazione RGB arriva fino a 1000 ore, quindi tantissimo. Invece con la retroilluminazione al massimo arriva a 35 ore, quindi considerando comunque una via di mezzo, riuscirete a utilizzarla tranquillamente almeno per una settimana senza particolari problemi. Quindi se cercate una tastiera wireless senza compromessi ad altissime prestazioni, questa è la più consigliata. Salendo ancora di più a livello proprio di prestazioni, caratteristiche, qualità, e quindi volete proprio il top del mercato, dovreste puntare alla Corsair K100, che ha caratteristiche come detto di fascia altissima, tra cui alcune uniche. Una di queste è il polling rate a 4000 MHz, 4 GHz, che è abbinato comunque a un processore a bordo molto veloce, permette di identificare ogni singolo click a velocità supersonica, quindi proprio non vi perdete assolutamente niente. Chiaramente è un modello full con retroilluminazione, in questo caso RGB personalizzabile, e una struttura molto solida, una qualità costruttiva di alto livello. Potete averla con i tasti CRMX Speed, o con i tasti nella versione ottica di Corsair. Non mancano i tasti multimediali, non mancano i tasti macro, insomma ha praticamente tutto il desiderabile oggi presente sul mercato. Ed è anche integrata con lo Stream Deck di Elgato, quindi nel caso in cui siate streamer, io la considererei. La Razer Hansman è anch'essa una tastiera decisamente unica di fascia alta, e la particolarità è sicuramente dei suoi switch ottico-analogici. Questo significa che la tecnologia ottica permette di individuare l'input in maniera praticamente istantanea, e il fatto di essere analogici significa che permette di individuare non solo il click, quindi l'invio della pressione del tasto, ma anche quanto avete premuto quel tasto. Un esempio pratico potrete impostarla, chiaramente cambia in base al gioco, ma potrete impostarla per, ad esempio, con un singolo tasto, se lo premete poco il vostro personaggio cammina, se lo premete a fondo allora si mette a correre, o addirittura, che ne so, la selezione di una granata, e premo a fondo e tiro la granata. Insomma, quello che permette di fare è decisamente interessante, chiaramente dipende in base al gioco e a come viene configurata. Al contrario, se non avete questa necessità, permette chiaramente di essere impostata per rilevare solamente 1-0, quindi pressione o non pressione, ma, ad esempio, potete impostare che la pressione, quindi il click, viene registrato appena premete il tasto o solo quando lo premete a fondo. Ovviamente tutto il resto è inutile che lo ripeto di fascia alta, della retroilluminazione RGB, al poggiaporsi magnetico, alla struttura e via discorrendo. Amici, queste che vi ho raccontato sono le tastiere più consigliate tra tutte le varie guide all'acquisto che sono presenti oggi nel web. Vi ricordo che queste non sono, come dire, miei consigli personali, ma è un'analisi statistica oggettiva di quello che viene consigliato da tutti gli esperti, insomma, del web. Io qui sotto vi metto il link di tutte queste tastiere, a cui però ne aggiungo altre che invece sono appunto dei miei consigli personali. Se state cercando quindi una nuova tastiera, io vi consiglio di scegliere tra questa selezione che vi ho proposto in questo video. Io, amici, vi ringrazio per avermi seguito. Vi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, vi aspetto anche sul mio Instagram e noi ci vediamo in un altro video. Ciao!